Ciao ragazzi! Dai, dai! Eccoci qua e noi siamo i Valtura e ci presentiamo Tommaso, chitarra voce Oreste alla chitarra elettrica Pacman alla batteria Bernardo al basso Tasha Dalton alla tastiera Il gruppo è nato all'incirca un anno fa Noi ci chiamiamo i Valtura Siamo un gruppo abruzzese Di te eravamo precisamente Giustissimo Pacman Facciamo un genere rock folk Con pezzi inediti Quindi scritti da Tommaso E composti poi a livello strumentale Da tutti quanti Facciamo questo genere musicale Per divertirci Quella è la cosa fondamentale E poi anche per cercare di trasmettere Un qualcosa alle persone che vogliono ascoltarci Ora siamo alle prese con il CD Che a breve uscirà e è disponibile per tutti Che si intitola I fiori del mio viso In collaborazione In collaborazione con Fabrizio Di Leonardo Roberto Ortenzi e Federico Taraschi Potete seguirci su Facebook Su Instagram E prossimamente su YouTube Inoltre vi aspettiamo numerosi Alle nostre prossime serate E mi raccomando Seguitici numerosi Tanti tanti like Tanti tanti Follower Tanti tanti Condivisioni Tutto Tutto Chi più ne ha più ne metta Ravanate il più possibile E a breve Arriverà anche il nostro sito ufficiale E soprattutto Il video di YouTube Arrivati a questo punto I Valtura vi salutano Con un grande abbraccio E vi aspettiamo numerosi Mi raccomando Ciao ragazzi Ciao Non vogliamo Seguiteci Sempre e comunque Ah salutiamo Ok Grandi Ciao Sai Voi impostate Ah dobbiamo andare via Ok Abbiamo vinto Ciao